Oggi voglio parlarvi del tempo, questa dimensione che ci accompagna in ogni istante della nostra vita e che allo stesso tempo resta uno dei più grandi misteri dell'universo. Preparatevi a un viaggio affascinante attraverso idee, teorie e curiosità sul tempo. La natura del tempo, realtà o illusione. Secondo molti fisici, il tempo potrebbe essere una semplice illusione generata dal nostro cervello. Immaginate di guardare un film. Tutto è già stato registrato, dall'inizio alla fine, ma noi vediamo i fotogrammi scorrere uno dietro l'altro. E se la nostra realtà funzionasse proprio così? Alcuni scienziati sostengono che passato, presente e futuro esistano simultaneamente, come i capitoli di un libro già scritto. La nostra percezione di un prima e di un dopo sarebbe semplicemente il modo in cui la mente organizza gli eventi. Relatività. Quando il tempo si deforma. Albert Einstein ha rivoluzionato la nostra comprensione del tempo con la sua teoria della relatività. Ha dimostrato che il tempo non è assoluto, ma dipende dalla velocità con cui ci muoviamo e dalla forza di gravità a cui siamo sottoposti. Se viaggiamo a velocità prossime a quella della luce, i nostri orologi rallentano rispetto a quelli di chi rimane fermo. In prossimità di corpi molto massicci, come un buco nero, il tempo scorre diversamente. Questo vuol dire che la frase, il tempo vola, può essere letteralmente vera per chi si muove molto velocemente. E tutto ciò, pur sembrando fantascienza, è pienamente confermato da esperimenti scientifici. L'origine è la freccia del tempo. Se esiste un passato e un futuro, vuol dire che il tempo ha una direzione. I fisici la chiamano freccia del tempo e la collegano alla seconda legge della termodinamica, secondo cui il disordine, o entropia, dell'universo tende ad aumentare. È per questo che percepiamo un avanti e un indietro. L'ordine diminuisce, lasciando spazio al caos. Ciò non significa che tutto sia destinato a disgregarsi senza senso. Anzi, il nostro universo crea continuamente nuove strutture. Ma dietro questa evoluzione c'è sempre un'energia che scorre in una direzione, come una corrente che ci impedisce di tornare indietro nel tempo. Esperienza personale. Kronos e Kairos. Nell'antica Grecia esistevano due concetti di tempo. Kronos, il tempo cronologico, quello che misuriamo con l'orologio, e Kairos, il momento opportuno o qualitativo. Kronos è il susseguirsi di secondi, minuti e ore che scandiscono le nostre giornate. Kairos è quell'istante speciale che sembra dilatarsi o fermarsi, quando siamo completamente immersi in un'attività che amiamo, oppure quando viviamo un'emozione fortissima e, per un attimo, il tempo scompare. Questa doppia natura del tempo rivela quanto esso sia non solo una grandezza fisica, ma anche un'esperienza personale ed emozionale. Tempo interiore e percezione. Ci sono momenti in cui il tempo sembra accelerare, quando siamo felici, occupati o eccitati per qualcosa. Al contrario, ci sono periodi in cui i minuti sembrano non passare mai. Pensate a una lezione noiosa o a quando siamo in attesa di un evento importante. Questo dimostra come il tempo sia anche soggettivo. La nostra mente, i nostri pensieri e le nostre emozioni giocano un ruolo fondamentale nel modo in cui lo viviamo. Che il tempo sia un'illusione, una dimensione fisica, una freccia inarrestabile o un'emozione personale, resta comunque uno dei più grandi enigmi della nostra esistenza. L'unica certezza che abbiamo è che ogni istante ci offre l'opportunità di sperimentare la vita in modo unico e irripetibile. Quindi, che crediate o meno alle teorie più estreme, non dimenticate di vivere appieno il vostro presente. Forse è proprio in questo che si nasconde la magia del tempo, nella sua capacità di sorprenderci, cambiarci e spingerci a scoprire sempre qualcosa di nuovo. Grazie per aver guardato il video. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete le vostre riflessioni sul tempo nei commenti.